La Gelbison dopo la convincente prestazione sul campo del Due Torri si ripete tra le muramiche del Morra e dopo tre mesi ritrova la vittoria e lo fa con un rotondo punteggio a spese della Versa Normanna che si vede costretta a lasciare la zona nobile della classifica. Di contro la Gelbison con i tre punti conquistati può guardare con fiducia all'obiettivo salvezza. Al derby regionale la formazione di casa si presenta con una sola novità nello schieramento iniziale Torraca in luogo dello squalificato De Luca. La Versa deve rinunciare alla guida del tecnico chienese squalificato insieme al suo secondo. Dopo una punizione al sesto minuto Di Franco che impegna D'Agostino e la Gelbison a creare le azioni più insidiose. Prima con Muro al nono minuto tiro fuori e poi Consiglio al tredicesimo che ci prova con una rovesciata. Lo stesso Consiglio quattro minuti più tardi non sbaglia su un cross dall'angolo e di testa batte Lombardo per il vantaggio dei salernitani. Alla mezz'ora un cambio nelle fila della Versa in campo Diallo per scuotto ma è sempre la Gelbison a rendersi pericolosa. Al tredicinquesimo una conclusione dalla distanza di Marmoro sfiora il montante. Dopo 120 secondi palla filtrante per Passaro che impegna Lombardo. Il tempo si chiude con il vantaggio della Gelbison. Ad inizio di presa la squadra di Pirozzi parte ancora con il turbo inserito e trova subito il raddoppio. Corre il quarto minuto quando Torraca imbecca in maniera magistrale Muro il quale non sbaglia e firma il 2-0 per i rosso-blu Cilentani. La ripresa sembra un monologo per la Gelbison a chi al ventinovesimo trova il meritato tris con Pecora il quale scaglia un tiro dalla distanza che beffa l'estremo difensore della Versa. Il risultato non cambia più e la Gelbison così può festeggiare davanti ai propri sostenitori il nuovo corso societario che ha portato alla presidenza Antonello Mainente e prepararsi al prossimo derby con la Sarnese consapevole che la permanenza in Serie D può essere raggiunta anche senza passare dai play-out.